Hashtag noi amiamo gli animali. Razze di cani che restano in forma. Quali sono? L'esercizio fisico è fondamentale per avere un cane sano e tonico. Tuttavia vi sono alcuni esemplari che devono sforzarsi di meno rispetto ad altri. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a quattro zampe scopriremo quali sono le razze di cani che tendono a restare in forma. Sarà compito del suo padrone quello di garantirgli non solo un'alimentazione sana ed equilibrata ma anche controlli periodici dal veterinario e attività all'aria aperta. Un momento non solo per tenersi in forma ma anche per stringere il legame tra Fido e il suo umano preferito. E poi chi ha detto che debba essere un momento noioso può anche essere un'occasione per giocare insieme. Ma quali sono le razze di cani che riescono a tenere un fisico tonico e asciutto? Con la buona volontà quasi tutte ma alcune devono fare davvero uno sforzo minimo come ad esempio l'alano che può restare in forma con una dieta corretta e con lunghe passeggiate all'aria aperta. Segue la chita americano che non soffre solitamente di problemi di sovrappeso. Dal fisico longilineo ed elegante è facile capire che tra i cani che tendono a restare in forma vi sia anche il dalmata un esemplare che ama correre e allenarsi specialmente in compagnia. Altro esemplare dal fisico tonico e atletico è il pastore tedesco non a caso molto utilizzato anche nelle squadre cinofile dell'arma. Talvolta però non si tratta solo di fisico imponente poiché anche un piccolo volpino di pomerania può dimostrarsi volenteroso a svolgere i suoi esercizi all'aria aperta risultando addirittura iperattivo in alcune occasioni. Per questo video è proprio tutto se volete saperne di più sulle razze di cani che tendono a restare in forma cliccate sul link dell'articolo corrispondente ma non solo volete maggiori approfondimenti scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto e il vostro cane è atletico o tende ad essere pigro e pantofolaio fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe ciao ciao